Amici del tubo benvenuti in questo nuovo video Oggi licenziamo codice a barre Zawitti lo frusterà da parte mia No, iniziamo già male No, già il video è demonetizzato Non mettiamo questa frase allora Amici del tubo benvenuti in questo nuovo video Sono il cugino e stiamo facendo una duo troll Trash, blitzcrank, doppio grab Per distruggere e grabbare Tutti quanti i culetti che ci sono No, anche questa è demonetizzata Vabbè, insomma, avete capito Andiamo a grabbare la gente, la uccidiamo No, uccidere, killare Oh mio dio, assassini, no Come si fa? È tutto un disastro Allora, grabbiamo i nemici Gli facciamo danno E muoiono in game Bravo, bravo Zawitti Ciao Dimex, buonasera Domani sera live per le singole anime come me Sì, domani sera è San Valentino Live speciale di San Valentino Giusto, mi sono dimenticato di dirlo per tutto questo tempo Ragazzi, domani sera live speciale Sarò con la mia ragazza qui in live Lei sarà proprio qui di fianco a me E faremo e tratteremo un po' di argomenti diversi Allora, prima di tutto parleremo Faremo due partite a lol insieme Io e lei Dove io uso il mouse e la tastiera O viceversa E poi leggeremo la posta del cuore Che la gente mi aveva inviato Quella che mi aveva inviato Durante la maratona di compleanno Ok? E quindi leggeremo un po' i problemi amorosi Che hanno le persone E cercheremo di dar loro dei consigli E tutti quanti insieme con la chat Potremo ovviamente parlare di queste cose E ovviamente potrete dare i vostri consigli da single Visto che appunto Chi è che ci sarà in live domani sera Se non i single? E quindi molto bene A meno ci sentiremo soli insieme Vero? Cioè, voi Io no Vabbè, ciao crano Grazie mille del paese Ma poverini Tutti dissati Un facocino Ti prendi giù O di noi Allora non puoi fare live Eh, io lo faccio Sì, ho il passo speciale Perché Fa live con me lei Capito? Il nostro San Valentino E passarlo qui con voi Dai, dai Iniziamo però con le cose sé Ok Le abbiamo grabbate entrambe Va benissimo Grab collettivo Io smangolo questa puttana di Sona E poi uccidiamo l'altra Ok, dai Va bene Va bene Purtroppo i miei mi stanno veramente distruggendo But se hai il nuovo grab Io ci vengo Uccidila Uccidila Non avere pietà L'ancorona A posto Dai Un bel po' di bordello Ci piace Andiamo con un altro po' di crit Oh, sì, sì Quanto si gode Prendiamo sto Kraken Che mi fa veramente Schizzare Le Femorali Ecco Se l'avesse voluto fare apposta Non ci sareste riusciti Sì, sì, sì Perché io stavo grabbando Sona Ma lui me l'ha spostata E loro ha grabbato quello dietro È stata bellissima questa scena Che cazzo è successo? Vabbè L'importante è che abbiamo grabbato tutte Ma loro no Ah, Mordekaiser top Perché è mid che sta venendo verso la bot? Che succede? Nemici Zawiti Che sei? Un chirurgo? I domani sarò tra i single Ma non per scelta Cazzo Non dite così Pochino Infermiere Attenzione È stata grabbata Grabbate entrambe Ma che fa quella? Si mette le qua Era al sicuro per lei Ma come? Ha detto Vabbè dai È finita Qua non mi prendo Non brecollo Vabbè Che fa? Ragazzi Sona player sono pazzi Secondo me Non sono abituati A dover fare le cose bene Perché non c'è niente da giocare con Sona Premi i tasti succedono le cose Boh La W è Tipo la zona delle coccole La Q è Sparo roba E Colpisco gente a caso La E Non serve a un cazzo Boh Fa sta roba viola E basta Velocemente Così poca Che non serve E la R L'unica cosa che devono fare Mirare Ovviamente Si manca Quindi abbiamo già distrutta questa Grazie a tutti Andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo via Bravissima Ok ok Dai va bene così Cazzo si è comprata armor Zona Ha capito che Non deve morire E vai il Nunu Il Nunu Il Nunu Il Nunu Vai che lo spacchi Non ha più spell Nuno Non può far più niente Vabbè Finito Che brutto Ragazzi Stai il tizio Con uno di vita Davanti E non puoi far nulla Buonasera Su Kuju Buonasera Quello Su Katana Si Riprendo io Ok Lasciamoli qua vivi Così i Minion Arrivano fino a qua I loro Li grabbiamo tanto Molto bene Dove sono? Dove sono andati? Ma fanno al drago? Puoi vedere? Lascia dare un occhio Su Kuju Sarebbe il cugino Ma in sardo Ah Che belli I sardi Avete tantissime cose belle Io Quando sono andato in Sardegna Ho mangiato il pecorino Migliore della mia vita Come fate? Come fate? Andate lo schiae Un tizio È quello che è in Gilda Con me Su Palward Grazie mille Quello sulle Katana Sulla Katana So Adesso grabbiamo Olè Vabbè Tanto è inutile grabbarli là Non facciamo molto Ci hanno aspettati Veramente che pushassimo Così tanto Guarda Non ha farm Lei Ha 23 Io ho 45 Madonna mia Proprio Abbiamo presa tantissimo Ok Doppio grabb in faccia Se l'è presa Flashato per la paura Oh Oh Che vuole questo Rebbolo pure Che fanno? Ma che fanno? Vabbè Lascia stare Lascia stare Andiamo qua Vieni Non è tanto Boh Che cosa sta succedendo? Tutti pazzi Olè Vieni No Peccato Non ho mana Buono 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 Molto Buono My bad No Senti vado via Oh Chi è? Madonna È pazza Farlo venire Farlo venire avanti Sai che abbiamo sotto torre No Devi farlo venire Devi farglielo credere Facci Facci Se ce lo grab Quanto ci manca? Pincato Ok 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 Sono si è sacrificata Ma che fa Stasona? Ma Stasona sta intando Allora Lo fa apposta Ragazzi Non è normale Tutto ciò Oh C'è uno Ok Mamma mia Sono proprio Un bait vivente Stasona Allora È una sona Che Inta Molto male Visto il taglio di capelli Di Ricky Fries Non so Nemmeno chi è Perché dovrei sapere Del suo taglio di capelli Ma porca puttana Ragazzi Bisogna solo stare attenti A non cambiare la vocale Al pecorino Intendo Eh Sì 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 Tu ne sai Bravo bravo ragazzo Ehm Temo di non conoscerlo Fa ridere Ehm 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 È un ragazzo Del server di discord Ragazzi Non è che Deve far ridere O no Povero blue coffee Cugino Conosci la laguna? Vero Anche tu Fai parte Della laguna Ma che cazzo La gente è proprio fissata Con sto taglio di capelli Se ne ho mangiato il brodo Ma ma infatti Guardate il mio invece Guardate che fico Con i capelli che sembrano Uno di qua e uno di là Tipo un diavoletto Bellissimo ragazzi Una ciocca di capelli che vede da una parte E una dall'altra Porca troia Vogliamo parlarne? Grabiamo sta puttana Basta Boom Frustata per bene Però mi dispiace per lei Perché effettivamente sta giocando da sola Picchia 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 Bene In sauna penso sia proprio in town O peggio È un bot a questo punto Ma non capisco perché all'inizio ha fatto una giocata normale Poi boh Sparita Dopo ho detto vabbè senti attivo il bot Andiamo va Guarda l'un di Siena Guarda che Siena ha senso con le rune Lo faccio anch'io Lo voglio fare una bella trollata Oh Ok Quante anime Quante anime Dammi tutte le anime 57 Già di armor in più Magic Resist Il Godolas E chi se lo ricorda 15 anni fa Guarda come seguo tutti Eh Oh Dio Ho starnutito e ho ucciso uno Madonna Arianna è impazzita C'è questo Xerath che non si vede molto in realtà Guarda quanto scudo c'ho Che fai? Che fai? Mamma mia il grab della muerte questo Ahia Ok Lei ha premuto il tasto destro Il suo fucile ha sparato Pronti all'infinity Mamma questi arrivano i danni veri ragazzi 100 gold Cazzo Domanda forse stupida Chi fra i due fa il support? Beh Basta guardare le rune e gli oggetti Eh Non mi ricordo niente della Sardegna di dove sono stato Quello sulla catana Ero piccolo per occuparmi di queste cose Mi portavano in giro i miei genitori Era un loro lavoro Quando tornerete a fare le due bot Tu e Rick Mancate insieme Eh Volevo chiedere a lui Ehm Il cucine si lamenta tanto Grazie mille I cater Ah Uffa Volevo prendere il carretto Che vale più di sono Tutti voi quando ci sono queste cose Le chiedete a me E non a lui Boh Come se io avessi potere decisionale sulla cosa Cioè nel senso È sempre stato Rick a chiedermi di fare duo Quindi Ve l'ho sempre detto Tra i due lo streamer più grande con più numeri E lui Cioè se vado lì a chiedergli le duo Mi sembra di lemosinare visibilità Capite? Quindi non è carino Ok Spacchiamo sta torre Sì si spacca Si spacca Non importa Chi è che sta tipando? Mordeoxerath Ma qui ammazzo tutti amici Buono Lo dicevo io che ammazzavo tutti Anime 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 Non ci succede niente qui Vai Orianna Attacchiamo questa cosa E niente Hai visto che succede A ultare Il tank Signor Mordecazzi Oh merda Oh cazzo Allora Ma se prendessi Runan Voglio proprio vedere come trash con Runan Support è un appellativo per cugino Vedi la partita di Lissin Superfluo Sì 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 Assolutamente Lissin il support che rimuove nemici Allora ti aspetto di nuovo Sei mio ospite Cibo e zoccole Tutto pagato Ah sì Porca troia Potrei farci un pensiero Ma è trash one shot? No questo è trash adc Trash one shot Io volevo fare trash full ap Però abbiamo troppi appinti Abbiamo già non uno e Orianna Quindi non andava bene Trash ap lo farò in mid Comunque Un nemico è stato ucciso Vai vai andiamo Oh Olè Voglio frustarlo Grazie Ahmed 82 È inarrestabile Non è ospitalità senza zoccole Oddio È come da me a Bologna Non c'è ospitalità senza lasagna e tortellini Forza forza Andiamo Oh ragù Madonna quanti piatti c'ha a Bologna Potentissimi ragazzi Effettivamente Molto potente Via Un nemico è stato ucciso Attacca 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 Un nemico è stato ucciso Con la tua scuola Tra distritto Un nemico Minchia Questa è proprio Non si è mossa Pensa poverina Lei lì Lei Oddio Resce più ibrido di Jax Non c'è nulla di più ibrido di lui Il brivido del ibrido Te lo già Soltanto Jax Sì Ciao stronzi Arrivederci Vado a fare il reddone Che se lo faccio Mi dà un bel po' di Rigenerazione HP E se aspettiamo addirittura Dieci secondi per farlo Prendi anche tu Perché diventa globale Tra nove secondi Sette Tanto c'è quella Ok Globale Prendi a meno uno Ottimo Quindi vedi Ci ricopriamo gli HP Avrei il runa Da prendere in realtà Sarebbe bello Cazzo Senti vado a prendere il runa E vado Mido top Vieni vieni Trash si farmora All'infinito Puoi dirlo forte Proprio quello Suo bello Vai un po' di live steal Che serve Tiriamo dritto per dritto Mido Andiamo top Andiamo top Vai Topo Topolin Chi è Camille È vero che abbiamo Lei in squadra Non l'avevo ancora vista A posto Amico spazzato via Attenzione Il Kaino Non morto forte Questo Kaino Ma poi c'è l'infranto Su Kain Che devi fare l'attacco base Un champion che ne fa pochi Solito fa molte spell Quel robo Vabbè dai Oddio guardate che strano Trash con il runa Guardate Ci sono dei proiettili Che partono Funziona Un nemico è stato ucciso Vai 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 No vabbè Frustati C'è uno C'è uno stasona qua Ancora che ci sono i bot Ragazzi Mario quando lo mette Vanguard In che patch Lo mettono Troppi grab Per te No Al limite mi ha preso Io compro Annullo Poi compro Annullo 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 Compro Voglio vedere se Questa cosa qua Funziona Sui siti Tipo Su GG Quelle robe lì Se funziona Sta cosa che è Compro Annullo Compro Annullo Vediamo un po' Cielo Grosso Hashtag 30 cm Se io faccio Update Adesso ci sarà il mio Con il compro Annullo Compro Annullo Error Code Riot Communication Error Porca Troia Riot Games Una cosa Lo devi fare Comunicar Ma ero Cielo Grosso No Ah no Ero Pentakill Porca Troia Ero Pentakill C'ha ragione Pentakill Hashtag Up Update Ma porca Puttana Vabbè S più S più S più Sia Trash Che Nautilus Che Nuno Tutti Fortissimi Tutti Grabati Tutti Dannati Perché Mi hanno fatto Molto danno Avete capito Repson Whataf Criato Why Son is a Bot Still Bot In the Game Where Is Vanguard So Eh Uso di Cheat Botting Account Where is Vanguard Chiediamoglielo Direttamente a loro Dai mo Tutti questi annunci Supersonici E poi Fate in cazzo Non lavorate Updated Lo voglio vedere Eccolo qua Trash Build Nooo Non me l'ha contato Compra nulla Compra nulla Peccato iatri 3